Allora! E benvenuto al Waikiki Inn! Le spiacerebbe dirmi il suo nome, signore? Ben Franklin. Oh! Dico il suo nome, signore. Serviamo la colazione dalle 7 alle 9 nella sala Tiki. L'happy hour si tiene dalle 5 alle 8 nella sala Tiki. C'è il 2x1 sul Mai Tai mentre i Pignacolada... C'è niente di meno esotico. Le porto una bottiglia in camera, signor Franklin. Qualcosa di scuro. Sì, signore. La storia. Sì, signore. Scuiccia. La storia. Sì, signore. C'è una di riesce. Sì, signore. Sì, signore. Applausi. Sì, signore. Vai con Dio, figlio di puttana! Comando, abbiamo un pacco nel parcheggio. Segnalo per la raccolta, passo. Squadra d'assalto, recuperate il corpo di 47. Squadra di pulizia, occupatevi dei sopravvissuti. Muoversi! Abbiamo presto! Via, via! Ok, ascoltatemi. Seguiremo il protocollo operazioni pubbliche, sezione 3. Nessun sopravvissuto, nessun corpo, nessuna traccia. Pulizie di primavera... C'è qualcosa di strano, vogliamo essere... Questac, abbiamo il contatto visivo? Niente da fare. Un'altra... 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 ... ... ... ... Nessun segno del bersaglio, qualcuno lo vede? Sì signora, ascoltate, abbiamo l'ordine di setacciare il campo di Gran Turco, formazione a griglia standard 2x2, muoversi, passo. Sì a me lo io. Negativo, abbiamo perso il contatto visto Senti, aggiornamento Senti, mi ricevi, aggiornamento Missione fallita 47 Travis, mi fidavo di te Ti è stata assegnata una missione e hai tradito l'agenzia Mi hai umiliato!